Buonasera, bentrovati alle TG Med Sport. Rientra anche Ezequiel Mugnoz in gruppo. Dunque un'altra buona notizia per il Palermo primo in classifica. Più 7 punti sull'Empoli, più 8 sull'Latina con la partita contro il Brescia alle porte. Un Brescia nel caos più totale, non soltanto societario ma anche tecnico. Reduce Ivo Iaconi dalla sua prima panchina contro il Latina. Subito una sconfitta 2-0. Dunque che Brescia arriverà al Barbere? Sicuramente la domanda che sarà più ricorrente in questi giorni. A prescindere da tutto però il Palermo ha dalla sua la forza di una squadra che ha trovato ancora di più compattezza e un'identità con la riscoperta anche di giocatori che a Castellammare e di Stabbia hanno fatto la differenza partendo dalla loro posizione di comprimari. Parliamo di Francesco Bolzoni straordinario con la sua doppietta ma soprattutto di Franco Vazquez, l'argentino, che di fatto era stato escluso dalla lista dei convocabili in tutta la prima parte di stagione che poi invece è stato rispolverato da Giuseppe Iacchini che ha vinto una scommessa. Ovviamente felice anche Vazquez di questo momento particolarmente brillante per lui. Una bella partita a tutti. L'importante era vincere per continuare avanti. Adesso vogliamo continuare così e il sabato c'è una partita difficile contro Brescia. Ci vuoi raccontare la gioia per il primo gol in maglia rosa nero? Peraltro è una perla, è un gol bellissimo. Sì, un bel gol. Anche Paolo me l'ha dato bene sul sinistro. Ho calciato e per forza ha entrato e ha fatto un bel gol. Facciamo finta che mister Iacchini non ci sente. Meglio Vazquez-Mezala o meglio Vazquez lì vicino a uno o due attaccanti? No, io mi trovo meglio avanti perché in Argentina ho giocato sempre lì e sempre ho giocato lì. Però mi piace pure giocare di Mezala dove il mister mi chiede e io posso aiutare. Più 7 dall'Empoli, più 8 dalla terza. La parola d'ordine però è rimanere tranquilli perché comunque il traguardo è lontano. Sei d'accordo? Sì, manca tanto. Ancora dobbiamo pensare partita a partita. Adesso arriva Brescia che c'è una bella squadra. Dobbiamo continuare così e vincere il sabato con i nostri tifosi. Settimana tutto sommato serena anche per il Trapani nonostante la sconfitta per 2-0 in casa contro il Siena dopo 14 risultati utili consecutivi. C'è comunque l'appoggio del pubblico ma alle porte la sfida contro il Latina. In questo momento forse tra le squadre più in forma del campionato Boscaia che non si era esaltato più di tanto dopo i risultati positivi adesso con molta calma affronta anche questa sfida contro il Latina. È una sconfitta tranquilla e speriamo sia salutare, anzi secondo me sarà salutare perché ci fa un po' vivere la nostra dimensione che noi comunque già sappiamo, che conosciamo. Niente, da sabato sarà un'altra storia contro il Latina. Sabato abbiamo affrontato una grandissima squadra e anche soprattutto per meriti loro e per qualche demerito nostro nel secondo tempo soprattutto. Noi siamo riusciti a reagire a qualche situazione importante loro e quindi niente abbiamo perso ma se queste partite arrivano una ogni 16-17 va bene. Dalla partita col Carpi che la squadra comunque macinava gioco e punti in continuazione. E poi la cosa che voglio assolutamente dire è che devo ringraziare il pubblico. La curva straordinaria è stata commovente alla fine perché ha capito, ha applaudito la squadra, ma tutta la tifoseria tranne qualcuno, qualche gruppo così di persone che è andato via sul 2-0. La nostra squadra non merita di non essere guardata, la nostra squadra merita di essere guardata fino alla fine anche quando perde. Probabilmente qualcuno aveva parcheggiato male la macchina e ha pensato bene ad andarsene via prima, però la stragrande maggioranza del pubblico è stata commovente. E quindi li voglio ringraziare pubblicamente da parte mia e da parte della squadra, la curva meravigliosa. Clima completamente differente, invece a Catania il presidente Pulvirenti ha voluto prendere la parola, forse un po' a sorpresa, 56 minuti di conferenza stampa per spiegare perché il Catania deve ancora credere nella salvezza in Serie A. Si cerca sempre di trovare il capo espiatorio, l'errore di chi è, si è scoperchiato dalla pentola, ma quale pentola si è scoperchiata? Le pentole non ce ne sono, c'è la linearità e la trasparenza di una società che ha sempre fatto tutto alla luce del sole, ci ha messo sempre la faccia. Ha da 8 anni che fa la Serie A, ha 10 anni che ha preso questa società, questa persona che vi trovate davanti. Ha sempre fatto tutto alla luce del sole. Anche in questo calciomercato di gennaio abbiamo detto che abbiamo preso tre giocatori, abbiamo fatto ad agosto, chiusura del calciomercato, abbiamo preso i voti migliori in assoluto della storia del Catania. Tutti quanti voi, tutte le state giornaliste che avevano detto che avevamo fatto il calciomercato più importante della storia del Catania. Questi sono i fatti. Poi purtroppo è iniziata una stagione allucinante. Sassuolo diventa una tappa fondamentale, ma il Catania è abituato a tappe importanti nel proprio percorso in questa Serie A. Ha sempre avuto in passato tappe importanti e non le ha mai mancate. Vedrete che non sbaglieremo neanche questo a Sassuolo. Poi abbiamo due partite sulla carta proibitive, ma lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, il Catania a completo può battere la Juve. Andiamo su trmweb.it nella sezione sport, intanto per andare a vedere anche le notizie che riguardano le altre squadre. Andiamo in Lega Pro con il Messina che ha il quarto risultato utile consecutivo, appareggiato nell'anticipo di venerdì scorso 0-0 a Cosenza. Un campo sicuramente difficile, rimane in zona promozione la squadra di Grassadonia. Squadra di Grassadonia al completo anche per la prossima sfida, quella contro il Gavorrano. Sempre nella sezione sport, oltre alle notizie che riguardano ovviamente il Palermo, con il rientro in gruppo di Mugnoz e le parole del presidente Pulvirenti. Salvezza, crediamoci, vi facciamo vedere questa notizia abbastanza simpatica. La notizia abbastanza simpatica perché vogliamo andare tutti allo stadio con Ablai. Chi è Ablai? Ablai è un bambino italiano di 4 anni, di origine in senegalesi, sta facendo impazzire il web con la sua simpatia. Ha rivisitato la canzone di Rita Pavone, la partita di pallone, l'ha rivisitata in chiave rosa-nero. Perché il Palermo io lo amo più di te, questo ormai è il ritornello. Noi lo abbiamo fatto vedere, il video lo abbiamo lanciato in esclusiva come sigla dell'anteprima di rosa-nero nella puntata di ieri. Allora, per chi ancora non l'avesse visto, ci sono quasi 10.000 persone che hanno già guardato il video di Ablai sulla pagina ufficiale Facebook di Rosa e Nero, in poco meno di 24 ore da quando il video è stato pubblicato. Allora, per chi non l'avesse ancora visto, ci lasciamo con la simpatia di Ablai, che invita tutti ad andare al Barbera. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola a vedere la partita da pallone, perché, perché il Palermo io lo amo più di te. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare. Arancine, un euro. Pizze familiari, a soli 5 euro. Panificio Badalamenti, rosticceria, panificio, pizzeria, dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti, sacca tupane, un tennipenti. Via Francesco Crispi, numero 290, a Palermo. Info line 388 9088 192. Grazie a tutti.